Musica Buongiorno e ben ritrovati a tutti cari telespettatori di Fano TV Questa è la rassegna stampa di oggi, mercoledì 22 di marzo E siamo in diretta alle 7 e mezzo per leggere il resto del carino Il Corriere Adriatico, le edizioni di Pesaro e Urbino Cominciamo dal santo del giorno Oggi la chiesa ricorda il beato Clemente Augusto Il sole è sorto alle 6.06 e tramonterà le 18.23 Oggi era previsto un cambio del tempo ma in realtà c'è poca cosa da noi A parte l'entroterra, il sud delle Marche dove vedete c'è un po' di pioggia prevista Limitatamente al primo pomeriggio Oggi avremo brevi isolati rovesci sulle zone medio collinari Però nel sud appunto dicevo delle Marche Le temperature sono in aumento Domani il cielo torna ad essere comunque sereno Poco nuvoloso con qualche rovescio temporale sul settore appenninico Le temperature sono stazionari E venerdì 24 marzo ancora cielo parzialmente nuvoloso Con temperature in aumento Dal pomeriggio di sabato L'ingresso di un nucleo di aria più fresca di origine atlantica Favorirà fenomeni di instabilità con un peggioramento per lunedì 27 Un pitbull che azzanna un bambino di soli 7 anni Adesso è ferito questo bambino Non è per fortuna in pericolo di vita Il padrone rischia il linciaggio Questa è la prima pagina del Corriere Adriatico di Pesero di oggi Terrore ai giardinetti di Montecchio Il giovane è stato salvato dai carabinieri Dunque un pitbull che azzannato un bambino Che stava giocando con la mamma ai giardinetti È successo ieri pomeriggio al parco Sarajevo di Montecchio di Vallefoglia Il piccolo di 6 anni in serie condizioni Il padrone del cane è stato rintracciato dai carabinieri Negli stessi giardinetti Ha rischiato di essere linciato dai familiari del bambino E da altri frequentatori del parco pubblico Non si sa se più per la rabbia o per la paura Che per il pericolo corso Sono stati momenti comunque di panico Tutto è degenerato dopo le 17 L'articolo all'interno del Corriere Adriatico A firma di Letizia Francesconi A centropagine invece la fotografia del comune di Pesero Questo è il piazzale dove vedete sullo sfondo il tribunale di Pesero Dove il comune vuole mettere un freno ai posteggiatori irregolari Sbarra anti abusivi al parcheggio Carducci Per venire incontro ai residenti del centro Nuovi posti auto al San Benedetto E questa è la prima pagina E allora entriamo dentro il giornale Freno ai parcheggiatori abusivi Piazzale Carducci sarà sbarrato La regolamentazione della sosta con un dispositivo a tempo Eviterà anche il mercato nero dei ticket Per i residenti nella ZTL si studia come poter recuperare dei posti auto Dentro il San Benedetto Via la brutta gomma nera Siamo sempre sulle pagine di Pesero ma è già caccia al souvenir Gli operatori sono al lavoro per eliminare il tappeto in linoleum E naturalmente i nostalgici Quelli che insomma ci hanno passato una vita Sopra quella gomma che adesso è brutta e degradata Vorrebbe portarsene un pezzettino a casa O addirittura c'è anche chi propone di metterla in un museo Insomma la gomma nera sotto i portici di via San Francesco a Pesero Uno dei simboli del degrado del centro storico Che sta cercando di cambiare pelle È entrata di diritto nella storia della città pesarese Ricci otto mesi per unire Cattabrighe a Vismara Il sindaco conferma la nuova strada di collegamento Pronta entro novembre avrà anche la pista ciclopedonale Rubano i pc, i computer ai bambini della scuola Un pranzo per poterli ricomprare L'hanno organizzato i genitori degli alunni della primaria di Cattabrighe Si terrà questo pranzo il 2 di aprile Ed è aperto a tutti Dunque si potranno ricomprare i pc rubati A Fano invece la fede civile della scuola Padalino La verità è speranza adesione alla giornata delle vittime di mafia I valori di consapevolezza e responsabilità Dunque alle ore 12 tutti in cortile Hanno lasciato con ordine le loro classi Gli studenti della scuola media Padalino Per raccogliersi nella grande superficie interna a Sant'Arcangelo Dove ormai da alcuni anni si celebra il 21 di marzo Su scelta dell'Associazione Libra di Don Luigi Ciotti La giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie E poi strage di multe Sempre a Fano con le videocamere Documentate manovre pericolose In soli due mesi 600 infrazioni All'incrocio di Viale 1 maggio Di notte sorprese auto che sfrecciano con il rosso Nel 2016 sono stati incassati 1 milione e 100 mila euro con le multe Ma quest'anno con i nuovi strumenti C'è un boom E se le cifre davvero sono quelle riportate E su questo ci sono i documenti Non si sgarra Sono 600 ma forse anche molte di più Probabilmente le multe accertate in appena due mesi Con le videocamere di Viale 1 maggio I soldi che entreranno nel bilancio del Comune di Fano Sono tanti E qui ci sono le cifre Aumentano Vedete è aumentato l'introito del bilancio Nel bilancio preventivo Vita difficile per gli indisciplinati Quelli al volante 1 milione e 100 mila euro Gli incassati dal Comune nel 2016 Con le multe elevate dalla Polizia Municipale 1 milione e 950 mila euro Invece sono gli euro messi a bilancio Dal Comune di Fano nel bilancio appunto preventivo del 2017 E 2020 sono il numero delle multe elevate L'anno scorso con gli autovelox E dicevamo 600 Quelli accertati in appena due mesi Con le telecamere Quegli scatoloni che stanno sopra In Viale 1 maggio Sulla strada Viale 1 maggio Dalla Valle del Cesano invece la notizia Che sta facendo rumore Che arriva da frontone Le dimissioni della Presidente Della Proloco Con lei anche 6 consiglieri su 9 Che hanno lasciato l'incarico Lei dice Ho fallito Me ne vado Dimissione da Proloco La Presidente Eleonora Marocchi Che insomma è Presidente E impegnata da 16 anni Nella Proloco frontonese Anche a livello provinciale A un certo punto Insomma accusa e dice Contro chi ha tentato Di sminuire l'associazione E dice io sento di aver fallito Me ne vado E tra i motivi L'affidamento della gestione Della Rocca di frontone A una cooperativa di operatori Invece a Marotta Vedete la fotografia Di alcuni Insomma parecchi vestiti Gettati a terra Vicino ai giardini pubblici Vestiti logori E maleodoranti Abbandonati a Marotta Proteste per la montagna Di Panni Vecchia Accanto all'isola ecologica Di via delle regioni E poi La mappa degli uffici E dei servizi Già dislocati Tra i quattro municipi Stiamo parlando Di terre roveresche Che è diventato Un unico comune Ma che all'epoca Erano quattro Urciano Eccetera eccetera Insomma Molta gente Più che di servizi Veri e propri È disorientata Perché non sa Ancora come muoversi Dove andare Per quel documento Piuttosto che quell'altro Insomma Le lamentele Non si sono fatte attendere La mappa dei servizi Ora è meglio Definita A seguito Appunto Dell'istituzione Di questi municipi E questa Lì troverete Nella pagina di oggi Il Corriere Adriatico Un po' Qualche delucidazione in più Su come muoversi E districarsi Da Senigallia invece Misa Sicuro Paga la spiaggia Sul litorale I detriti del fiume La provincia pulisce l'alveo Ma non ha i soldi Per il conferimento In discarica Vedete i rifiuti Sulla spiaggia di Velluto Sullo sfondo La rotonda Non è un bel vedere Anche perché La spiaggia di Senigallia È cosiddetta La spiaggia di Velluto C'è poco Velluto In questo momento Ma comunque Corsa contro il tempo Per liberare La renile Il primo di aprile Infatti inizia La stagione Mai Sexy Senigallia Questa è L'ultima creazione Di Goes Mai Sexy Senigallia Che si trova Nel lato dello stadio Rivolta verso Monte Nero Qualcuno Ha storto il naso La creazione Sul muro Fa discutere C'è chi la reputa Un'immagine inopportuna A giorni C'è infatti La partita del cuore Al Bianchelli L'artista Dice il mio Però vuole essere Un omaggio Alla bellezza E il precedente Nel 2013 Toccò a Cicciolina Era stato il murales Sempre a firma di Goes A scatenare le polemiche Troppo vicino Alla scuola primaria E un nonno Aveva scritto Addirittura al Papa E poi è stato Imbrattato Subito allontanati I genitori violenti A Ostravetere Ricorderete Ieri vi abbiamo letto La notizia I titoli Di quella Di quei genitori Di quei genitori Profughi Che sono stati Allontanati Hanno perso La patria potestà Il figlio È stato Il figlio Di bambino Di sei anni È stato tolto Ai genitori violenti Tra l'altro Questi genitori Lunedì mattina A scuola Hanno aggredito Anche due maestre E un assistente sociale Alla scuola Dell'infanzia Lombardi Questa coppia Di profughi Di origine nigeriana Non farà più rientro In paese Perché entrambi Sono stati allontanati Dalla prefettura Che sta valutando Anche l'espulsione Invece sotto La fotografia Ormai nota Questa Questa macchina La Land Rover Sulla quale viaggiava Il manager Vittorio Mallucci Di 56 anni Rimasto vittima Morto carbonizzato Domenica pomeriggio All'interno di quest'auto Con lui c'era anche La bambina La figlia di 14 anni Che miracolosamente È uscita Comunque Illesa Dallo schianto Ci sono i funerali Che si svolgeranno Domani alle 10 Nel santuario Di Santa Maria Parve di Ostra Appunto Alle 10 del mattino E Poi La La salma Verrà Verrà sepolta Appunto Tumulata Nella Nella cappella Di famiglia Oggi pomeriggio Intanto Rientrerà Dall'India Anita La maggiore Delle due Figlie Delle sue figlie Allora Andiamo Sulla Sulle pagine Invece Del resto del carlino Nella pagina principale Guardate La fotografia È per Il fumo Tutte le persone Per le persone Che fumano in macchina Il fumo fa male E fa male Anche al portafoglio Perché Sigarette accese in auto Con i bambini dentro Alcune madri Sono state Multate Mentre per le cicche A terra 50 sanzioni Questa è La pagina principale Del carlino di Pesaro Poi Si parla Di legalità Lezione show Di Vecchioni Il liceo Marconi Ha prodotto Uno spettacolo A cui parteciperà Anche il noto Cantautore E poi Sono stati Gettati via Cinque gattini Scoperto e denunciato In un dirupo Sull'ardizio Allora Le due pagine Noi leggiamo Soltanto una Quella che riguarda Appunto le donne Le fumatrici Due mamme Che sono state Sanzionate Dai vigili urbani Di Pesaro Con una multa Di 110 euro Fumano con i bimbi A bordo E dunque Giustamente Direi io Sono state multate La giustificazione Dice Ho il finestrino Aperto E poi Da quando È vietato Si è giustificata Una delle due Donne Che in barba Alla salute Dei propri figli Fumava Beatamente In macchina Insomma Hanno fatto bene Queste pattuglie In borghese Della polizia municipale A fermare Queste persone Insomma Fumatori incoscienti Li definisce Il giornale Però Attenzione Perché anche Gettare a terra Moziccone di sigarette Non è più consentito Nel 2016 Sono state multate 42 persone Adesso invece 8 Quindi Ricordate che Quando avete una sigaretta Buttare la cicca di sigaretta Finita A terra Insomma È vietato Getta i gattini Nel dirupo Ecco l'altra famiglia Scusate L'altra notizia Sul giornale Di questa mattina Recuperati vivi Dai vigili del fuoco L'uomo è stato denunciato Dove i ragazzi vedono il lancio E poi chiamano il 113 E prendono addirittura La targa dell'auto E quindi bravi anche Questi ragazzini Che con senso civico Hanno dato così La possibilità A cinque gattini Di continuare a vivere Bambino azzannato La testa da un pitbull Al parco L'animale allontanato Con un bastone Il piccolo Per fortuna Non è grave Due volte Due volte azzannato Da un cane di razza pitbull Sfuggito al controllo Del proprietario È accaduto ieri A un bambino di 7 anni A Montecchio Mentre stava giocando a calcio Con un coetaneo Nel parco Di via Zagabria Nel quartiere Di Grotte E questa è La notizia di cronaca Poi Da Monte Sempre da Montecchio La tragedia Di questa Donna Sonia Cerioni 39 anni Due figli Guardate che bella Fotografia Spento il sorriso di Sonia Oggi l'addio Alla giovane mamma Stroncata da un male incurabile A sole 39 anni Era titolare Della Cerioni Publigrafica A Montecchio E questa È la pagina 9 Del Carlino Quella di Urbino Invece Riguarda Gli infissi Caduti Che cadono a pezzi Nella scuola del libro Scuola del libro Dimenticata Docenti preoccupati Ieri Un accurato Sopraluogo Guardate Sono cadute Queste vetrate Queste vetrate Anche molto Molto pesanti L'edificio Non ha problemi strutturali La manutenzione È rinviata Però Da troppi decenni Chiudiamo con la pagina di Fano Del resto del Carlino Ricorderete La tragedia Di quell'operaio Che precipitò Dalla gru Siamo vicino Alla chiesa di San Paterniano A luglio scorso Gianni Ambrosini 44 anni Perse la vita In via Polloni Cadendo da oltre 20 metri Ebbene Colpa della gru L'esito Della super perizia Disposta Dal GIP Sotto Invece Accattonaggio Molesto Fratelli d'Italia Tuona Ma il sindaco di Fano Seri Dice L'ordinanza Non risolve nulla La questione approda Però In consiglio Comunale Mentre La cerimonia Libano Il comandante Dell'Unifil Ricorda Il Marò Filippo Montesi Sono entrambi Fanesi E dunque Questa è l'altra notizia Sulla pagina principale Del Carlino Noi chiudiamo qui La nostra rassegna stampa Grazie per averci seguito Vi auguro Una buona giornata E vi ricordo che Al 338 4968 250 È possibile Inviare Alla nostra redazione Le vostre segnalazioni Che sono sempre fondamentali Importantissime Per noi E quindi Vi ringraziamo Davvero Perché ogni giorno Ci segnalate Tante 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 cose Che poi noi cerchiamo Di riportare Al nostro telegiornale Cerchiamo di risolvere Insieme a voi Laddove è possibile Grazie per averci seguito Buona giornata Ci vediamo stasera Le 20 e 30 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti